Grazie a tutti. 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 Voi fare una volta? Si, un paio. Voi! 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 Ahí no llegué! Al giro! Voi! Ayudle! Vale! El ultimo giro no... Grazie a tutti. 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 Ok. 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 si, si va la mia si va a contrarre va bene bene si ok ok Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 ... ... ... ... E' l'acqua? E' l'acqua? E' l'acqua vedere tutto questo Ah, così Andale . Eere? Si E', ciao E' bene questa volta E? Lo hai sentito a otro